Ricevo tantissime segnalazioni da parte dei cittadini, ovviamente non posso essere ovunque, non ho il dono dell'ubiquità e allora fate benissimo a mandare al mio numero 339-240-4240 video, foto e quant'altro. Oggi voglio dare spazio a delle foto che mi sono state inviate da un cittadino con riferimento alla strada provinciale 120, è un'arteria importantissima perché collega con Paolo VI, con Statte e quant'altro e quindi è molto ma molto trafficata soprattutto dai lavoratori di Teleperformance, della Citroen e quant'altro. Le immagini parlano chiaro, sono un vero e proprio percorso di guerra, si rischiano incidenti proprio perché parliamo di un manto stradale dissestato, pericolosissimo. Poi non lamentiamoci quando accadono gli incidenti, abbiamo i feriti, abbiamo i morti e magari interveniamo come si suol dire a babbo morto, dobbiamo intervenire prima. Bene, caro Rinaldo Melucci, non ce l'ho con te nulla di personale, ma visto che sei sindaco di Taranto e sei anche presidente della provincia di Taranto, datti da fare, intervieni presso gli uffici tecnici perché qui è a rischio la vita, la vita di tanti poveri innocenti che vanno a lavorare con la propria auto e rischiano davvero di non ritornare più a casa. Hai un duplice incarico, sindaco e presidente della provincia, ti compete meno chiacchiere, meno passerelle, meno tagli di nastro, meno annunci ad effetto e più fatti concreti. Qui parliamo di una cosa importantissima, salvare vite umane evitando incidenti, anche mortali. Capito?